Dall'astronave bianconera, la contena di Max, 316esimo feudo, Juventus-Bologna. Le ceste sono fatte, non si torna indietro. Partiti fino alla fine del primo tempo, forza Juvengol, dai ragazzi! Si mette sul destro, vuole l'area di rigore, la cerca, Vlaovic di testa! La girata con la palla che sfiora la traversa. Il mancino di Paolino, che sembra andare in porta invece sfiora ed esce. Scout. Il tiro improvviso, poi attenzione, dal limite dell'area di rigore di Svambeck, centrale. Danilo. Danilo fa tutto da solo, tiro! In tuffo Skorubski, non c'è bisogno del suo intervento. Scambio che riesce, lo scout è il Soriano, dentro per Arnautovic, davanti a Scesni, Scesni è evitato, gol di Arnautovic. Attenzione, tutto buono, Bologna in vantaggio al minuto numero 52. Cornel di Quadrado, colpo di testa di Danilo, palo cuori! Prossa di Quadrado per delitti, testa Skorubski, la palla ancora lì, mezza rovesciata liberale del Bologna. Poi il mancino di Dybala, il tiro ribattuto ancora dal Bologna. Morata lanciato verso la porta, Morata, Morata, tutto il portiere, va giù in aree, Morata! Attenzione, Quadrado, porta vuota, tiro, traversa! Varra, e dà il calcio di rigore, tira fuori il cartellino rosso. Attenzione, e poi il giallo anche a Medel per proteste, che si becca al rosso, Bologna in nove. Dice che è calcio di punizione dal limite l'ambito. Parte Dujan, una sassata sopra la travesa. Cross di Bernardeschi, testa di Rabiot in appoggio, poi rovesciata! Gol, 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 gol! La Juven gol, Vlaovic sottoporta! Vediamo, testa di Rabiot, testa di Danilo, mezza rovesciata di Morata, arriva da dietro Vlaovic. E si prende il gol del pareggio. Il gol è buono, si riparte. Danilo per Quadrado. Quadrado crossa, testa di Rabiot! La parata sul tiro centrale di Skorupski. Il triplice fischio del signor Sacchi manda definitivamente le squadre negli spogliatoi.